Adesso ci siamo io e te. E io tu io. Chi è? Dove sta? Ho sbagliato. Non c'è neanche 30 anni e ti sono successe più cose nella tua vita che nella mia 50. È il suo figlio. Io lo amo. Lui è il mio sole. In prima visione, baciato dal sole. Con i tuoi occhi qui di fronte. Ultima puntata. Martedì 21 e 20. Rai 1.